Ciao ragazzi! Nuovo mese, nuovo video dedicato alle ultime sulla piattaforma gaming in cloud di Google, Stadia. Dalla precedente puntata di questa serie ci sono state alcune novità che andremo subito a vedere. Dopodiché, come al solito, ci concentreremo sui giochi. L'evento più importante di luglio è stato sicuramente il Google for Games Developer Summit 2021, durante il quale si sono tenuti 3 Keynote dedicati a Stadia. Il Summit era ovviamente pensato per gli sviluppatori e non per gli utenti finali della piattaforma, ma l'evento era comunque accessibile a tutti. E così abbiamo scoperto che Google sta lavorando per fornire agli studios ed ai publishers nuovi strumenti per facilitare il porting dei giochi. Ma non solo, sono state rivelate nuove iniziative per massimizzare i guadagni per i titoli pubblicati sulla piattaforma, come il nuovo programma di marketing di affiliazione. Poi ora è prevista la condivisione delle entrate mensili dell'abbonamento Stadia Pro con i partner ed una migliore ripartizione delle entrate per i nuovi giochi con transazioni che vengono lanciati su Stadia. Insomma, tante piccole novità lato sviluppo, pubblicazione e marketing che dovrebbero aiutare le software house a portare sempre più titoli sulla piattaforma di BigG. Alcuni dei nuovi developer tools saranno disponibili già a partire da questo mese, così come la condivisione delle entrate da Stadia Pro, mentre tutte le altre iniziative partiranno da fine anno e si prolungheranno fino al 2023. Insomma, Google ce la sta mettendo tutta per far avvicinare sempre più contenuti sul catalogo di Stadia, cosa che di rimando dovrebbe attirare più giocatori disposti a spendere e quindi di conseguenza nuove possibilità di guadagno per le software house, e via così in circolo. Speriamo! Passando ai lavori sotto al cofano, vi segnalo una serie interessantissima di articoli sul blog di Stadia.dev che spiegano, molto a grandi linee, come Stadia, grazie alla potenza del cloud ed io aggiungerei anche al machine learning, sia in grado di sfruttare i dati elaborati dalle sessioni di gioco dei vari giocatori ovviamente garantendone la privacy, e non solo, per essenzialmente migliorare la resa dei videogiochi stessi, riducendo i tempi di caricamento, eliminando il possibile jank nei fotogrammi e rendendo il gameplay fluido nonostante il tutto viaggi via streaming. Per i più curiosi trovate il link agli articoli qui in basso nella descrizione del video. Detto ciò, l'app per Android è stata nuovamente aggiornata, e chi ne ha analizzato la pick-up ha scovato nuovi rimandi al bridge mode, il quale si spera sia ormai addirittura d'arrivo. Dopodiché ci sono riferimenti ai pre-rilasci dei giochi. Non è chiaro se ciò vada inteso come quei titoli che vengono forniti in anticipo alla stampa, oppure se Google stia preparando la possibilità di avere beta test chiuse su Stadia. Sta di fatto che ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane. Nel frattempo, BigG ha aggiornato un'impostazione della privacy in Stadia che consente di controllare meglio quale informazioni sono visibili agli altri utenti. Il cambiamento in questione suggerisce che a breve sarà possibile inviare richieste di amicizia su Stadia non solo come oggi tramite l'ID dell'utente, ma anche tramite indirizzo email o numero di telefono di una persona. In più, su Google TV, l'app Stadia ha ricevuto una migliore integrazione. Vengono ora suggeriti direttamente nella home i giochi da giocare ed è stata aggiunta la sezione Giocati di recente. Piccola nota di servizio, come da me ipotizzato lo scorso mese, finalmente il bundle controller Stadia più Chromecast con Google TV è stato reso ufficiale. Andando sullo store di Google, è possibile acquistare a 79.99€ la, tra virgolette, vecchia Premiere Edition che è stata quindi definitivamente ribassata, oppure abbinare un controller ufficiale Stadia del colore che si desidera con la nuova Chromecast con Google TV sempre del colore che si desidera per 99.99€. A cavallo tra luglio ed agosto, poi, Google ha aperto le iscrizioni a chiunque avesse un canale YouTube alla prova della beta di Crowdplay. Facendo richiesta, si poteva essere selezionati e, in alcuni casi, ricevere una copia del gioco per poi giocare con i propri iscritti su YouTube. Qualche streamer ha partecipato, io purtroppo non ho potuto. In ogni caso, il forum di iscrizione dovrebbe essere ancora attivo. Se siete interessati a darci un'occhiata vi lascio il link in descrizione. A voi attirano le partite Crowd? Se non sapete di che cosa io stia parlando, Crowdplay è una funzione esclusiva di Stadia, direttamente integrata con YouTube, che consente, tramite un paio di click, di partecipare al gioco che lo streamer di turno sta stremmando. Lato streamer si avvia il gioco e si attiva la funzione direttamente dalle impostazioni di Stadia. Lato spettatore ci si mette in coda e, quando si viene selezionati, si entra direttamente in-game su Stadia e si partecipa alla partita dello streamer. È una funzione, secondo me, davvero interessante. Voi che ne pensate? Ve lo chiedo già da un po' ormai, ma sareste interessati a provarla in futuro con me sul mio canale secondario dedicato ai videogames? Perfetto! Chiusa la parentesi sulle novità e funzionalità a corredo, ora passiamo alla vera ciccia i videogiochi. Dall'ultimo mio video che ho pubblicato su Stadia, sul catalogo sono stati aggiunti Streets of Rage 4, Criss Tales, One Piece World Seeker Premium Edition, Control Ultimate Edition e Grime, sul quale tornerò tra poco. In più sono arrivati l'evento Solstice of Heroes in Destiny 2, l'espansione Bloodline per Watchdog Legion, l'aggiornamento gratuito per Get Packed Fully Loaded che ha praticamente stravolto il gioco, un nuovo episodio per Hitman 3, la quinta patch per Baldur's Gate 3, la seconda parte di Valley of the Dormant per God Will Fall, l'espansione Blood Money per Red Dead Redemption 2, nuovi contenuti in-game per Orcs Must Die 3, nuovi cattivoni in Dead by the Light e svariati add-on per Marvel's Avengers. Contemporaneamente sono stati annunciati ritardi per i rilasci su tutte le piattaforme di gioco di Rainbow Six Extraction, Riders Republic e Resident Evil Reverse. FIFA 22, invece, con tanto di tecnologia Hyper Motion che ci sarà solo su Xbox, XS, PS5 e Stadia, arriverà come previsto altrove il 1 ottobre, con accesso anticipato dal 27 per chi acquisterà l'edizione Ultimate. Così come arriveranno anche Tom Clancy's X Defiant e Ice Simulator quando verranno commercializzati. Per quanto concerne i giochi già in precedenza a catalogo, invece, anche stavolta si sono stati vari sconti sui titoli Ubisoft più qualche altra offerta a spot a prezzi vantaggiosi per gli abbonati al PRO, ma anche per gli utenti non paganti. Parlando di abbonati, luglio è stato soprattutto un mese per loro molto intenso. Come vi avevo anticipato nella precedente puntata di luglio, per inizio mese erano previsti i Free Play Days per The Crew 2, ma a sorpresa, in contemporanea è stato possibile giocare senza costi aggiuntivi anche a Dead by the Light. E non solo, perché a fine mese, a cavallo con agosto, si è replicato con una seconda coppia di titoli in prova gratuita per gli abbonati al PRO, Marvel's Avengers e The Olympic Games Tokyo 2020. Ora, di Dead by the Light, The Crew 2 e Marvel's Avengers ne abbiamo già parlato in passato e sono tutti giochi che personalmente non trovo particolarmente interessanti. Invece, a The Olympic Games Tokyo 2020, visto che non l'avevo mai provato in precedenza, una chance gliel'ho data nonostante i giochi sportivi non siano il mio forte. Beh, come si può intuire dal titolo, si tratta della solita collezione di mini giochi ispirati alle Olimpiadi, stavolta presentati con una grafica cartoonesca e con la possibilità di parteciparvi usando un proprio avatar personalizzato in modo più o meno profondo. Il gioco in realtà era uscito a luglio 2019 solo in Giappone, ma poi causa rinvio delle Olimpiadi, qui in Occidente è arrivato su tutte le piattaforme di gioco, compresa Stadia, soltanto a giugno 2021. In Olympic Games Tokyo 2020 si può partecipare a 18 tipi di eventi, scegliendo tra 80 squadre nazionali. Ci sono diverse modalità, tra allenamento anche contro atleti famosi, single player, multiplayer locale o online. L'impressione complessiva che ho avuto io è quella di un gioco probabilmente molto più divertente se giocato in compagnia, magari dal divano con amici o parenti, ma che al contempo non ha alcuna pretesa particolare. Gli sport sono tutti più o meno semplificati, è un titolo molto più arcade che di simulazione e sostanzialmente dà l'idea che non potrà invecchiare molto bene. Voi che ne dite? Per me, insomma, è ottimo per partite cazzeggio spot con gli amici in co-op locale, giusto ora che ci sono barra ci sono state le Olimpiadi, ma poi nulla più. Personalmente non l'acquisterei e sono contento di averlo potuto provare proprio per capirne meglio la struttura e le dinamiche. In ogni caso, i Freeplay Days torneranno ancora una volta proprio a partire da oggi 5 agosto con la prova gratuita per l'intero weekend di Far Cry 5. Restando in tema Stadia Pro, come ogni mese, nuovi giochi sono stati aggiunti alla selezione di quelli riscattabili senza costi aggiuntivi e vecchi titoli sono tornati al pagamento per chi non li avesse ancora riscattati. In particolare, Hotline Miami 2 e Players Unknown Battlegrounds sono usciti dalla selezione e si sospetta che Little Nightmares 2 potrà seguirli da martedì prossimo 10 agosto, vi darò aggiornati in merito. Mentre sono entrati Epistory, Grime It Came From Space And Eight Our Brains, Killer Queen Black Tech e Valkyria Chronicles 4 Complete Edition. Insomma, attualmente ci sono 28 giochi disponibili per chi decidesse di iscriversi per la prima volta in questo momento, mentre per chi come me è abbonato dall'alba dei tempi, siamo giunti a 95 titoli. Ad ogni modo, andiamo a scoprire le nuove aggiunte. Epistory Typing Chronicles è un videogioco d'azione, avventura e, tra virgolette, scrittura sviluppato e pubblicato da Fishing Cactus. Il gioco è uscito nel 2016 su PC, mentre nel 2021 è arrivato su Stadia a febbraio e su Switch a luglio. Dal 1 agosto Epistory è entrato nella selezione Stadia Pro. Ora, il titolo è davvero particolare perché racconta il processo di scrittura di un'autrice che è a corto d'ispirazione e cerca aiuto per narrare la storia di una giovane ragazza che cavalca una volpe a tre code. La storia fantastica è perciò rappresentata sullo schermo sotto forma di carta ed origami ed è narrata dalla prospettiva dei pensieri interiori della scrittrice. Durante il gameplay, il giocatore potrà esplorare il mondo e risolvere alcuni enigmi ambientali. Ovviamente non mancheranno combattimenti contro nemici, combattimenti che rappresentano la vera particolarità del titolo. Ad ogni avversario infatti viene associata una parola che deve essere digitata dal giocatore affinché il nemico possa essere colpito e battuto. Se si gioca con la tastiera, la parola andrà direttamente digitata, mentre nel caso di gioco con il gamepad, come state vedendo a video, sarà presente una sequenza di pulsanti da premere. Alcuni avversari richiedono più sequenze per poter essere battuti, ed ovviamente avversari più ostici richiedono parole più complesse e persino più intimidatorie nel caso di gioco con tastiera. La digitazione non è comunque limitata ai combattimenti. Anche durante l'esplorazione, passare alla modalità digitazione consente al giocatore di interagire con il mondo circostante. Oltre a questa meccanica di base e alla possibilità di variare tramite punti esperienza alcune caratteristiche del personaggio come velocità, destrezza e quant'altro, ci sono anche 4 diverse abilità magiche che vanno sbloccate durante il corso dell'avventura. Queste abilità consentono di raggiungere aree precedentemente non accessibili in stile metroidvania, ma anche di cambiare le strategie durante i combattimenti. Ad esempio, l'abilità Fuoco permette di bruciare la parola successiva associata ad un singolo nemico, quella Ghiaccio di impedire ai nemici di avanzare per un breve periodo di tempo, quella Elettricità di incantare i nemici vicini se il bersaglio richiede un'altra parola, ed infine quella Vento di far indietreggiare gli avversari. Quando si gioca con la tastiera, il tipo di magia può essere cambiato digitandone il nome, perciò in battaglia bisognerà prendere decisioni molto velocemente. Oltre allo stile davvero particolare dei combattimenti, colpisce anche l'apparizione delle nuove aree del mondo che si dispiegano e si costruiscono come diorami attorno al personaggio. Epistory ha una durata relativamente breve, tra le 6 e le 7 ore, ma sembra intrigante e sono sicuro che proverò a completarlo. Voi ci avete mai giocato? Grime è un videogioco d'avventura ed azione RPG di Metroidvania sviluppato da Cloverbyte e pubblicato da Akupara Games il 2 agosto 2021 per PC e Stadia, dove è stato inserito fin da subito nella selezione PRO. Il titolo è ambientato in un mondo surreale dove ogni suo abitante ed ogni suo ambiente trasuda odio nei confronti del personaggio controllato dal giocatore, perché diverso dal resto. Praticamente tutto ciò che c'è intorno lo vuole morto. Ogni cosa in Grime è dolore e tutto è lotta, tant'è che anche il nostro eroe dovrà lottare brutalmente, fin dal suo risveglio, in una strana grotta, a malapena aggrappato alla propria forma fisica, il protagonista dovrà strisciare disperatamente in avanti e pian piano imparare ad assorbire gli attacchi degli avversari. Assorbire gli attacchi equivale fondamentalmente a parare le mosse di chi vuol corpirci. Ma in Grime tale parata avviene con la testa a buco nero del personaggio che risucchia ciò che lo sta attaccando. Fare ciò non solo distruggerà il nemico, ma consentirà anche di sbloccare nuovi poteri e ricaricare l'energia. Del resto, nonostante le apparenze, praticamente ogni cosa nel gioco ha energia e risucchiarla aiuta il nostro eroe. I combattimenti sono un po' alla Dark Souls, nel senso che è necessario più o meno sincronizzarsi con i movimenti dei nemici e nel complesso è sicuramente necessario combinare attacchi e parate per riuscire ad avanzare. Detto ciò, il personaggio può essere potenziato sia con armi ed armamenti e sia acquisendo nuove abilità. Lato armi, esse vanno trovate nel mondo di gioco e sono molto grottesche, da lame composte da dita, ammazze che urlano dolore quando le si usa. Lato abilità, nella mappa sono dislocati qui e lì degli obelischi che fungono da punti di controllo in cui si può salire di livello e migliorare le caratteristiche del personaggio. Man mano che il nostro eroe diventa più abile, può accedere ad aree della mappa prima non accessibili. Ogni volta che egli viene sconfitto, riparte dall'ultimo punto di controllo raggiunto, ma in ogni caso, ogni volta che si attraversa di nuovo un'area già esplorata, si ritrovano tutti i nemici. Inutile dire che non mancano boss da abbattere e segreti da scovare. Così come epistory, anche grime sembra promettente, e sicuramente proverò a completarlo. Vi intriga questo mondo così tormentato e pieno di odio? It Came From Space and Eight Our Brains è uno sparatutto arcade top-down del 2015 sviluppato e pubblicato da Triangle Studios e sbarcato su Stadia a marzo 2021. Dal 1 agosto è entrato in Stadia Pro. La trama è molto molto semplice. Una spietata specie aliena ha invaso la Terra e si nutre di cervelli umani. Jerry, il calvo personaggio controllato dal giocatore, in qualche modo riuscito a sopravvivere all'invasione, armato di torcia e di qualsiasi arma in grado di trasformare in poltiglia gli alieni dovrà vagare in luoghi oscuri e caotici per salvare il mondo, un colpo dopo l'altro. Ma non sarà facile. Durante la sua ricerca di attrezzature ed armi per sopravvivere, gli alieni cercheranno di catturarlo avventandosi a gruppi su di lui. Il gioco offre, oltre alla modalità campagna single player, anche la possibilità di giocare in co-op locale fino a 4 giocatori, oppure c'è la modalità survival ad ondate di nemici da abbattere all'interno di una singola mappa. Diciamo che è il classico passatempo da giochicchiare in compagnia o in sessioni tra virgolette mordi e fuggi, dato che i livelli della campagna sono collegati tra loro da safe rooms di salvataggio tra l'uno e l'altro, così da ripartire velocemente dove si è arrivati. Nel complesso poi non dovrebbe durare neanche tantissimo, quindi penso proprio che cercherò di arrivare il più lontano possibile almeno finché non mi stancherò perché mi divertono questi sparatutto top-down. E a voi piace il genere? Killer Queen Black è un videogame ispirato a Killer Queen, un platform di strategia in tempo reale del 2013. Killer Queen Black è stato sviluppato e pubblicato da Liquid Beat nel 2019 per PC, Switch ed Xbox. A marzo 2021 è arrivato su Stadia e dal 1 agosto il titolo è entrato nella selezione PRO. I giochi Killer Queen si basano su un board game fisico ideato dagli stessi creatori del primo videogioco, progettato per essere giocato in Steel Arcade da 10 giocatori in due squadre di 5. Queste due squadre, ciascuna guidata da una potente regina, si affrontano per essere la prima a catturare il dio lumaca, a riempire il proprio alveare di bacche, oppure ad eseguire un triplice assassino della regina nemica. Eh sì, ci sono 3 modalità per vincere una partita. Nella variante digitale, Killer Queen è un gioco competitivo a squadre per un massimo di 8 giocatori. Le due squadre, blu ed oro, composte da un massimo di 4 giocatori ciascuna, vedono un giocatore che interpreta la regina, mentre gli altri sono droni. I droni possono raccogliere le bacche sparse nell'arena per portarle in specifici gate di trasformazione. All'inizio questi gate sono neutrali, ma possono essere conquistati dalla regina di una delle due squadre. A seconda del tipo di gate, i droni che ci vanno dentro possono trasformarsi in speed drones che possono muoversi più velocemente, o in guerrieri che possono volare ed attaccare con spada o altre armi. Una volta trasformati però, i guerrieri perdono le abilità uniche dei droni, come la capacità di raccogliere e portare bacche o di cavalcare il dio lumaca. I droni rinascono all'infinito ogni volta che vengono uccisi, mentre la regina di ogni squadra ha soltanto 3 vite, rappresentate da 3 uova disegnate nei rispettivi alveari. A questo punto, come anticipato, possono verificarsi 3 condizioni di vittoria per una squadra. Vittoria militare, vittoria economica o vittoria della lumaca. La vittoria militare la si ottiene quando la regina della squadra avversaria perde tutte e 3 le vite per mano della regina o dei guerrieri della propria squadra. La vittoria economica la si ottiene usando i droni per raccogliere le bacche e riempire tutti i buchi del proprio alveare. Infine, la vittoria della lumaca la si ottiene usando un drone per guidare la lumaca presente nello scenario e che si muove molto lentamente nell'apposita area della propria squadra. La lumaca, tra l'altro, si ferma a mangiare i droni nemici e può muoversi più velocemente se cavalcata da uno speed drone. Il titolo si incentra principalmente in partite multiplayer online contro avversari da tutto il mondo, anche se è possibile organizzare partite in locale. In generale, come detto, Killer Queen Black è un titolo decisamente competitivo, il che lo rende per me poco attraente visto che non ho molto tempo da dedicare a questa tipologia di giochi. Volendo è anche possibile fare da spettatori per le partite pubbliche. In ogni caso, dubito fortemente che ci giocherò nonostante le partite siano brevi ed intense. Voi che ne dite? L'avete mai provato? Valkyria Chronicles 4 Complete Edition è l'edizione comprendente il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi del gioco di ruolo tattico sviluppato e pubblicato da SEGA nel 2018 per le varie piattaforme di gioco. Su Stadia, Valkyria Chronicles 4 è arrivato a dicembre 2020 e dal 1 agosto 2021 è entrato in Stadia Pro. Chiaramente è il quarto capitolo principale della serie Valkyria Chronicles e segue in tutto e per tutto lo stile dei primi tre episodi. Rispetto al passato però è stata introdotta una nuova classe di soldati, conosciuta come Granatiere, che può sparare colpi di mortaio. In più, se ci sono soldati alleati sul campo di battaglia, essi possono attaccare senza essere rivisti dalle forze nemiche. E poi, quando un soldato del proprio esercito è stato colpito e sta per morire, c'è la possibilità di attivare un nuovo sistema chiamato Brave. Questo sistema prevede che i giocatori possano scegliere o se ripristinare un punto comando CP e quindi aumentare l'abilità di un alleato vicino al corpo del moribondo, oppure se il soldato è stato abbattuto nel turno dell'avversario di contrastare l'attacco del nemico, o ancora se il soldato è stato abbattuto nel turno del giocatore di ripristinare i punti azione AP dell'unità e permettere di muoversi ed attaccare una volta con uno stato di invincibilità. Come si può intuire anche già solo da queste nuove aggiunte, trattandosi di un gioco tattico di strategia, il gameplay è tutt'altro che banale. Da non amante del genere, posso affermare con certezza che lo stile di gioco appare molto interessante visto il contrasto che c'è tra il movimento e le azioni dell'unità con controllo in terza persona e l'essere limitati ad un turno di gioco. Ogni battaglia, infatti, è sostanzialmente una sequenza di scontri a turno durante i quali il giocatore ha un determinato numero di punti comando, ognuno dei quali consente di scegliere un soldato e fargli compiere uno spostamento più utilizzare un punto azione tra quelli al momento disponibili. Dopodiché il turno passa all'avversario, il tutto rappresentato con uno stile grafico anch'esso molto interessante visto che è completamente disegnato in stile manga. Per quanto riguarda la trama, la storia vede Claude Wallace ed i suoi amici d'infanzia, Kai Shulen e Raz, unirsi all'esercito della Federazione per combattere l'impero nella Seconda Guerra Europea. I tre vogliono proteggere la propria patria, la Gallia, nonché vendicare un attacco imperiale alla loro città natale, Hafen. Tuttavia, durante l'addestramento, Kai scompare misteriosamente lasciando il posto a sua sorella Lina. Claude, Raz e Lina si uniscono quindi al corpo dei ranger d'élite e Claude ottiene il comando della squadra E. Ma la squadra E viene informata che l'impero ha conquistato gran parte del territorio della Federazione e sta iniziando l'invasione della Gallia. I leader della Federazione decidono di mettere tutte le loro risorse nell'operazione Croce del Nord, una massiccia offensiva con l'obiettivo di spingersi direttamente verso la capitale imperiale di Schwarzgrad. Da qui, battaglia dopo battaglia, si andrà a dipanare un'intricata storia che intreccia le vite dei protagonisti agli eventi di guerra. Come anticipato, i giochi strategici a turni per di più tattici non rientrano assolutamente tra quelli che preferisco. Oltretutto, Valkyria Chronicles 4 è stracolmo di dialoghi ed intrecci tra i personaggi che rendono, per me, lo svolgersi dell'azione troppo lento. Dopo più di un'ora e mezza si è ancora nel tutorial iniziale, cosa che ci sta vista la complessità del gameplay, ok? Ma tutto ciò non fa proprio per me. A voi piacciono i giochi tattici di strategia turni? E con ciò si chiude la puntata odierna. Che ne pensate dei giochi in Stadia Pro di agosto? Questa volta, almeno per quanto mi riguarda rispetto ai precedenti due mesi, sono stati finalmente selezionati dei giochi più interessanti o che comunque sicuramente giocherò. Che ne pensate invece delle novità dedicate agli sviluppatori annunciate durante l'evento Google for Games Developers? Speriamo che tutte le attività portate avanti da Big G riescano ad attrarre sempre più produttori e sviluppatori e che il catalogo, e di conseguenza la selezione Stadia Pro, si ingrantisca sempre più. Bene, direi che è tutto, non vi resta altro che salutarvi, vi aspetto nei commenti per sapere la vostra, e noi ci sentiamo presto! Ciao! Cosa che sarebbe a continuare? rho allora non si proprio la size del lогоo? Cosa che ha avuto l'espai alla luce? Cosa che ha avuto il giome? Cosa che tr아� spoke ad un palazzo dietro sim rec instituzione? Che non diceva che la regione non era mai Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.